La grande rabbia. BPV è una voragine infernale in cui precipitano le vite di migliaia di risparmiatori disperati. La fiaccolata di venerdì in Piazza dei Signori a Vicenza è affogata sotto a una tempesta improvvisa, ma il dolore, la frustrazione e l'indignazione bruciano ancora, giorno dopo giorno. Certo, la finanza non è un collegio di educande e se intesa San Paolo alla fine è intervenuta, non lo ha fatto certo per beneficenza, ma perché qualcosa ci doveva pur guadagnare. Solo se questo crack sarà un affare così importante per qualcuno, dall'altra parte lo stesso crack non può essere un disastro così grande per tutti gli altri. Ed è questo dislivello a fare indignare di più i risparmiatori. Io sono tra quei risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e quindi credo che i risparmiatori abbiano tanti motivi per essere indignati. Penso che il salvataggio fosse assolutamente necessario, oltre che doveroso. Che sia stato la soluzione migliore che il governo poteva portare a casa. Un investimento per il governo che arriverà probabilmente a 17 miliardi. Certo è che c'è un punto di debolezza, cioè il fatto che si sia arrivati troppo tardi. Insomma, si poteva fare di più, si poteva fare meglio. Oggi intanto c'è il primo ricorso contro il decreto legge del governo e Luca Zai a rilancia, c'è bisogno di un correttivo. La modifica principale è quella di dire avete pensato giustamente ai correntisti, perché i correntisti rischiano di perdere tutto se queste banche falliscono. Avete pensato giustamente agli obbligazionisti quali avranno il 100% del valore delle loro obbligazioni, vi siete dimenticati di quelli che hanno creduto nella banca, ovvero gli azionisti. I 205 mila veneti che hanno perso tutto e hanno diritto ad essere ristorati. E già, agli azionisti chi ci ha pensato? Per ora nessuno, ma le associazioni continuano a battersi e siccome ci sono delle inchieste in corso per individuare eventuali responsabilità sul crack delle popolari venete, oggi viene lanciata questa idea, istituire un fondo per le vittime dei reati bancari. E siccome le vittime da reato vanno tutelate, noi chiediamo fortemente l'istituzione di questo fondo. Grazie a tutti.